Ciao a tutti ragazzi, sono Candy e benvenuti in questo nuovissimo video di Creative Distraction Per qualche strano motivo il mio gioco è diventato tutto quanto in giapponese Cioè, non so neanche come poter cambiare adesso la lingua perché è tutto in giapponese, come faccio? Non ci capisco niente, oh no, che è successo? Comunque, questa dovrebbe essere una partita in solo, spero, non ne sono sicuro perché non ci capisco più niente Mi raccomando lasciate un bel mi piace se volete vedere gli altri video di questo videogioco E qua sotto in descrizione troverete il link per scaricarlo Vabbè, è diventato tutto quanto in giapponese, però fa nulla, alla fin fine il gioco è sempre lo stesso Oh ragazzi, guardate chi c'è Eeeh, sì, adesso che ho le skin riesco a vincere anch'io Uh, c'è un italiano, Sloan, avete visto? Bellissimo quel gattino Ma è bellissimo anche questa skin, guarda che figata Wow È tipo un imperatore cinese o giapponese, non lo so ragazzi Non ci capisco niente, ma perché? Ma aspetta, togliamo un attimo No, non voglio uscire Ma perché? Cos'è successo? Vi giuro ragazzi che io non ho cliccato nulla Allora, vedo due belle ceste, anzi tre belle ceste qua su questa casa Ottimo, quindi le andiamo a prendere tutte quante Adesso, mannaggia, sono caduto Quello non doveva succedere Comunque non importa perché possiamo dare un'occhiata qua Sembrerebbe che non sia venuto nessuno E sembrerebbe anche che non ci sia un bel fico secco Uh, una cappa, ottimo Uh, là c'è una persona, aspetta C'è uno che si sta buttando Vediamo se riesce a ucciderlo L'uccido? Sì, l'abbiamo ammazzato Rip Oh, poverino Ok, la cesta non si rompe, vero? No, non si rompe Oh, cacchio però Mannaggia, si è rotto tutto Qua abbiamo altre due ceste Perfetto Nel frattempo diamo un'occhiata alla mappa Ok, siamo in safe Quindi non dovremmo avere troppi problemi Abbiamo già fatto un'uccisione Di questo ne sono più che contento E qua per favore dammi qualcosa di buono Un lanciarazzi? No, però mi ha dato un SMG Che male, dai Lo metto qua È arrivato il momento di farmare Dobbiamo prendere tantissimi materiali Per fare l'upgrade Che possiamo già fare Il primo, perfetto Qua c'è qualcosa Non c'è niente Mi raccomando ragazzi Lasciate un bel mi piace Perché questi video vi piacciono veramente tantissimo Nello scorso video sono morto per colpa di un airstrike Uno che ha lanciato i missili dal cielo E mi hanno praticamente massacrato Nonostante io mi fossi protetto E nonostante fossi full vita E full scudo Però mi ha ammazzato lo stesso Sta cosa è molto strana E sinceramente non l'ho capita Però è appena caduto un drop Proprio qua davanti a me Quindi potrei anche aspettare un pochetto Così che se viene a prendere qualcuno Lo ammazzo Oppure lo vado a prendere E basta Che ne dite? Aspettiamo, aspettiamo Magari viene qualcuno qua nei paraggi Così lo possiamo uccidere Qua intanto abbiamo uno sniper bellissimo Ok, voglio fare per forza almeno un'uccisione con lo sniper ragazzi Io sono bravo con lo sniper E quindi lo dobbiamo per forza utilizzare Da qua ti sparano Guarda questo Sniperato Uh, così poco? Wow, pensavo di toglierli di più sinceramente E sei morto No, ancora vivo Senti, prendi due colpi e muori Ok Però l'abbiamo preso con lo sniper Ma evidentemente questo sniper non è molto forte Perché gli ho soltanto fatto tipo 90 ridanno all'incirca Ok, allora Ci prendiamo questo Poi al posto delle bombe mettiamo questo qua Così almeno ci abbiamo uno shotgun In una scorsa partita Ho trovato un arco ragazzi E ho one shotato una persona con 130 di danno in testa È stato veramente bellissimo Quindi non vedo l'ora di ritrovare l'arco Perché sarà una figata pazzesca utilizzarlo E farvelo vedere in un video Comunque sembrerebbe che nessun altro stia venendo qua a prendere il drop Quindi magari lo apro io Ne approfittiamo Sperando di trovare comunque qualcosa di buono Perché non è detto a dire la verità Aspetta, aspetta, aspetta Qualcuno spara E allora c'era qualcuno Dov'è? Eccolo Muori, muori Ok, ammazzato Perfetto C'è qualcun altro? Oh, guardate ragazzi Mi sono cambiato la skin Che figata la mia nuova skin Da cecchino professionista Ok ragazzi Guardate Ci abbiamo un altro nemico Che ora si prende una bella sniperata in testa L'ho mancato Per qualche strano motivo Ma ora non lo mancherò di nuovo Preso Gli abbiamo fatto 100 di danno E ora è morto Addio Ok, apriamo subito questo airdrop Perché sta qua ad aspettare da fin troppo tempo Dammi qualcosa di buono Dammi qualcosa di buono Che cosa abbiamo trovato? Una K leggendaria Sì, ottimo E basta Ehi, ti ho visto Cosa pensi di fare, amico mio? Uh, ricarichiamo Wow Mazza Che danno che mi ha fatto Aspettate Ok Molto meglio Eliminiamo ragazzi Perché poteva creare Veramente tanti problemi Questo Beh, abbiamo le magic box Quindi usiamole In giapponese Siamo alla bellezza ragazzi Di 5 uccisioni Fino ad ora Stanno venendo tutti quanti Contro di mail Che è molto positivo Continuate a fare così Per favore E Dobbiamo soltanto Sperare di trovare Qualcun altro Qua intanto Vediamo cosa troviamo Cosa c'aveva lui di buono Niente Vabbè A parte questo Comunque me lo prendo Ok A posto Allora, senti Tu ora muori Ok Preso Abbiamo fatto 100 di danno Adesso guardate Di nuovo Preso No Lasciami stare Capito Che io devo vincere una partita Per youtube Qua Non possiamo stare qua A bigallonare Ok Facciamoci una mini Una mini protezione E usiamo subito lo scudo Nel frattempo Io riesco a vedere Attraverso il muro Quindi se ci dovesse essere qualcuno Almeno Riusciamo a vederlo Wow ragazzi Stiamo dominando Questa partita Siamo già a 6 uccisioni Non me lo sarei mai aspettato Quindi anche se non dovessimo vincere Vabbè Fa nulla Però abbiamo fatto delle belle kills Ok Siamo ancora in safe Oh Ho visto uno Mi è sembrato di vedere una persona L'ho visto Sì l'ho visto Vediamo se faccio una cecchinata Ragazzi Da questa distanza Quasi 6 uccisioni Ragazzi Mi raccomando Lasciate un mi piace Se non lo avete ancora fatto In testa Ciao 200 E passa di danno Ma era lui Mi sa che c'è qualcun altro Lo sapete Ah eccolo Infatti Visto Oh E da tutti i lati Mi sparano No 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 Fermi 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 Datemi tregua Datemi tregua Per favore Allora Allora Mi sparano Da dietro E da davanti Ok Preso Abbiamo tolto 50 E ora è morto Mori E l'altro Do sta C'era un altro Che mi sparava Ragazzi Non sono pazzo Qualcun altro Mi sparava Comunque Andiamo a prendere Il suo loot Sperando che aveva Dello scudo Perché siamo mezzi morti Dimmi che avevi Dello scudo Eh infatti Visto Lo sapevo Scudo Sì ok Ottimo Ok allora Facciamo una roba Usiamo subito le bende E cerchiamo di capire Da dove ci spara l'altro Mamma mia ragazzi Voi sicuramente L'avete già visto E mi starete dicendo Ma sei cieco Come fai a non vederlo Camperino Nascosto Secondo me era dietro Comunque eh Vabbè Adesso abbiamo All'incirca 150 di vita 50 di scudo E 100 piena di vita Purtroppo Non possiamo rigenerare Lo scudo in nessun modo Perché Non ne ho trovato Dell'altro in giro Comunque Cerchiamo di fare 1800 di materiali Così ci prendiamo I materiali al massimo Quelli dorati Che sono veramente Super potenti Nel frattempo Stiamo alla bellezza Di 8 uccisioni Quindi mica male Anzi Stiamo andando Veramente molto molto bene Stiamo distruggendo tutti Ma non sono abbastanza Ne voglio fare di più Sì 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 Avete capito bene Voglio farne almeno Più di 10 In questa partita Oh Eccolo L'abbiamo visto Adesso non scappi più Non ti nascondi mica ora Oh Preso Eliminato Era lui Spero proprio fosse lui Quello che mi sporava Che non ne sono sicuro Ma là c'è un altro È quello Abbiamo preso No Si è spostato per poco Ok questo forse è bravo Ragazzi Dobbiamo stare attenti Perché questo potrebbe Saper giocare Dov'è Si è buttato È caduto Non so ragazzi Se ignorarlo Perché tra un po' Comunque arriva la safe E rischiamo di prendere Troppo danno Quindi potrei anche Ignorarlo E andare Avanti Verso La prossima Chi era dietro Perché secondo me Lo farà C'è attaccato prima Era dietro Quindi perché non farlo Di nuovo Ok adesso non abbiamo Più scudo Abbiamo soltanto 100 hp Zero di scudo Là è morto qualcuno E sembrerebbe che sia morto Recentemente Perché non hanno preso i drop Quindi ci potrebbe essere Qualcuno qua Nelle vicinanze E dobbiamo stare Molto Molto attenti Occhi ben aperti E orecchie ben aperte pure Eccolo Sta là E no E basta Ma tutti con me Ce l'hanno oggi Guarda quello Allora Ci abbiamo uno dietro E uno davanti Guardate quello là L'ho preso Eh anche lui Mi ha preso però Cacchio Sono insieme Mannaggia Mi ero dimenticato Ok ci abbiamo tante bende Sono un altro E anche tanti materiali Quindi Potremmo farcela Possiamo sopervivere Ok rinchiudiamoci Uh La situazione ragazzi Si mette veramente male Si mette male Abbiamo 50 hp E basta Uno è scappato E l'altro invece Ce l'ho qua Che mi tira le bombe Non ci posso credere Ma come ha fatto A uccidermi C'era la barriera No Mi ha appena rovinato Una partita Bellissima Guardalo Guardalo Ragazzi Spero vi sia piaciuto Questo video Mi raccomando Lasciate tanti Beh mi piace Perché io mi sono divertito Veramente tantissimo Dal vostro Candy è tutto E noi ci vediamo Sicuramente In un prossimo video Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti